Camper per lo screening della mammella e del collo dell'utero ad Ariano Irpino, le unità mobili dell'ASL in piazza Plebiscito dalle 9 di questa mattina, fino alle 14 lo screening gratuito della mammella per le donne dai 50 ai 69 anni e del collo dell'utero per le donne dai 25 ai 64 anni senza prenotazione con accesso diretto ai camper. L'azienda sanitaria locale di Avellino in campo dunque per la prevenzione su tutto il territorio provinciale. Con i camper viene fatta una sorta di sensibilizzazione oltre che effettiva esecuzione di mammografie e di pap test per la prevenzione del cancro alla mammella e alla cervice uterina. È un'opera di sensibilizzazione fondamentale affinché tutte le donne nella fascia di età che vanno dai 50 ai 69 anni facciano prevenzione effettiva con esami diagnostici che possono consentire la diagnostica di tumori in una fase iniziale e che è l'unica vera arma per affrontare questa patologia perché la diagnosi precoce di queste patologie dei tumori della cervice uterina e della mammella rappresenta la possibilità di guarigione totale da queste patologie per cui io trovo questa opera anche di sensibilizzazione da parte dell'ASL fondamentale. e quindi sono contenta in qualche modo di fare in piccola parte di contribuire a questa cosa con i miei collaboratori tecnici, tutti gli operatori e quindi ringrazio anche la mia direzione che mi dà la possibilità di poter partecipare a questa campagna. La prevenzione conta tantissimo tanto che noi oltre a fare gli screening e chiamare tutte le persone che sono nel target per i tumori che come diceva anche la dottoressa Volpe noi adesso stiamo facendo una sensibilizzazione ulteriore con i camper perché per quelli che semmai non sono venuti alla chiamata che viene fatta singola ai vari screening dice noi stiamo con i camper nelle piazze dei comuni per ulteriormente oltre che sensibilizzare e intercettare ancora persone che semmai hanno voglia di fare questo screening anche se io reputo che lo debbano fare perché? Perché noi spesso parliamo di tumori ma la prevenzione svolge un ruolo di primo ordine se noi il tumore lo intercettiamo nella prima fase la speranza di vita sono più forti e abbiamo sicuramente maggiore compliance su tutta la filiera quindi prima scopriamo eventuale tumore e meglio è quindi noi facciamo la nostra parte l'importante è che ci sia anche una sensibilizzazione e anche oggi la vostra presenza qui ci aiuta perché è importante la sensibilizzazione delle persone stiamo andando nei vari comuni a fare questa attività di prevenzione su tutti i 118 comuni